Buonasera e bentrovati con l'edizione serale di Caro Tg. Vediamo insieme i titoli principali di giornata. Delitto Pierina per il riesame, Luis è un soggetto spietato e pericoloso e deve rimanere in carcere. Questa mattina Loris Bianchi, convocato nuovamente in questura. Resta incerto il futuro dei dipendenti del negoziometro di Rimini. Oggi c'è stato uno sciopero davanti al punto vendita rimasto chiuso. Ad un mese dall'inizio degli eventi natalizi la Perla Verde svela i protagonisti di Riccione e Chris Massie. Si punta sulla musica e su allestimenti a tema acquatico. Calcio domani sera alle 20.30 il Rimini fa visita alla Ternana, seconda forza del campionato. Mister Busce ritrova ad avversario un suo vecchio compagno di squadra. Buonasera e bentrovati. Ancora in apertura il delitto di Pierina Paganelli. Infatti sono state depositate ieri le motivazioni del riesame in merito alla decisione di confermare la detenzione in carcere per Luis da Silva che i giudici descrivono come un soggetto spietato e pericoloso il servizio. Un soggetto incapace di contenere le sue pulsioni criminose, che non ha il minimo rispetto per la vita umana e che non esita a sopprimere chiunque ostacoli un suo piano. È durissimo il riesame nel tracciare il profilo di Luis da Silva, in carcere dal luglio scorso per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il Tribunale della Libertà di Bologna, presieduto dal giudice Mazzino Barbensi, ha blindato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, demolendo la tesi della difesa che invece puntava al dito contro Loris Bianchi. Per i giudici bolognesi assumono grandi e rilevanti i seguenti elementi. L'identificazione in da Silva dell'ignoto ripreso dalla Cam3, la telecamera della farmacia San Martino, mentre si dirige verso il civico 31 di Vie del Ciclamino alle 22.17 del 3 ottobre 2023, sera del delitto, ma anche i depistaggi effettuati dall'indagato, che consegna la polizia dei vestiti diversi da quelli indossati il giorno dell'omicidio. Il movente, che è certamente passionale, è ricollegabile alla relazione clandestina con Manuela Bianchi, relazione, dicono i giudici, che da Silva cerca di minimizzare definendola solo una storia di sesso. E infine la cosiddetta confessione all'amata, ovvero quando Luis, davanti alla richiesta di rassicurazioni da parte di Manuela circa la sua estraneità all'omicidio, non ebbe la forza, secondo l'accusa e secondo l'esame, di escludere un suo coinvolgimento, limitandosi a dire «tra noi non cambia niente», frase immortalata dalle telecamere della sala d'attesa della questura di Rimini. A tutti questi elementi, scrivono i giudici, si devono aggiungere l'assenza di un alibi, la compatibilità delle tempistiche con la dinamica dell'omicidio, l'addestramento militare dell'indagato e l'assenza nel condominio di altre persone di colore. E Loris Bianchi questa mattina è stato convocato in questura a Rimini per dare il suo consenso alla copia di tutti i dati presenti nei suoi due cellulari. All'uscita dagli uffici di Piazzale Bornaccini, il fratello di Manuela, che si è detto comunque tranquillo, si è fermato con i cronisti, sentiamo le sue parole. Pensi è stato la mattinata senza cellulare? No, la mattinata, due ore, tre ore. Come mai? Ah, volevano vedere le cose dall'ultima volta, siamo adesso, tutto lì. Gli ho detto addirittura io, guarda che adesso ho due telefoni, gli ho dati tutti e due, così hanno fatto le due teleprie. Ha fatto la copia di Lorenzo? Penso di sì che si chiami così, però le mie sensazioni, ripeto, le tengo io. Hanno toccato entrambe le inchieste? Sì. Sì, curiosità, più che altro sensazioni mie che non voglio ribadire. Che quindi riguardano sia l'uscita di Pierina sia il 7 maggio del 2023? Esattamente, hanno collegato le due cose. Ti hanno chiesto di ripercorrere i tuoi percorsi durante quei giorni? Non mi hanno chiesto di ripercorrere i miei, però se sapevo di percorsi di altri, però ripeto, anche qui si arriva nelle sensazioni e mi fermo. Io mi sento tranquillo, la problematica è solamente che a volte devi perdere tempo per queste cose qui, ma fa parte comunque del dare un discomunibilità alle forze dell'ordine. Ora voltiamo pagina. Resta incerto il futuro dei dipendenti del negozio Metro di Rimini. Oggi, infatti, c'è stato uno sciopero davanti al negozio che è rimasto chiuso. Vediamo. No alla chiusura di Metro Rimini, non molliamo di un centimetro. Questo è lo slogan, con gioco di parole, dei dipendenti riminesi di Metro Italia che hanno incrociato le braccia per l'intera giornata di lavoro con un presidio di protesta davanti al punto vendita che, vista l'alta adesione alla mobilitazione, non ha potuto aprire al pubblico. In sciopero anche il negozio di Pozzuoli, l'altro del quale la società ha annunciato la chiusura. A Rimini, le serande dovrebbero abbassarsi definitivamente il prossimo 31 dicembre, dopo 21 anni di attività, mettendo così a rischio 40 posti di lavoro, tra diretti e indiretti, che diventano 97, contando anche Pozzuoli. Sindacati e dipendenti, però, non si arrendono e chiedono all'azienda di proseguire le trattative, scongiurando la chiusura e ragionando invece sulla riconversione del punto vendita, soluzione che consentirebbe di salvare tutti i posti di lavoro. L'avvertenza, spiegano CGL e Cisle Will, proseguirà fino a che da Metro Italia non arriverà un passo indietro sulle chiusure. Non sono quindi escluse nuove mobilitazioni. Parliamo ora di sanità, problemi di personale, liste d'attesa, scarsità di fondi. La sanità, appunto, è stata protagonista ieri sera fuori dall'aula su Icaro TV. Ospiti alcuni professionisti di vari ambiti, medici, ospedalieri, medici di medicina generale e infermieri. Vediamo alcuni aspetti emersi nel corso del dibattito. Tempi complicati per il mondo sanitario anche in Emilia Romagna, che pur restando una regione d'eccellenza, Pagadazio, come il resto d'Italia, ha la mancata programmazione negli anni e al sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. In Italia abbiamo circa 6,2 infermieri ogni 1.000 abitanti, quando la media europea è oltre 9 infermieri per 1.000 abitanti. Quindi significa che ogni 1.000 abitanti noi perdiamo 3 infermieri. Questo, se lo andiamo a tradurre matematicamente nella provincia di Rimini, ci mancano 450 infermieri. Abbiamo una carenza sistemica in Italia legata al fatto che non ci sono medici specialisti da assumere. Nell'emergenza urgenza c'è la massima criticità, ma anche il 30% dei professionisti. 11 in provincia di Rimini, invece, le zone non coperte dai medici di medicina generale al momento. A fine ottobre ci saranno nuove assegnazioni, ma col rischio che alcuni territori più marginali restino comunque scoperti. Eppure, dicono gli addetti ai lavori, i medici ci sono, ma mancano specialisti, perché la professione è diventata meno attrattiva. Si dice che il medico ospedaliero guadagna molto. Non guadagna molto, guadagna 2.800 euro primo stipendio laureato e specializzato, ma con quello lui deve pagare tutta una serie di spese, come ad esempio delle assicurazioni che costano migliaia di euro. Nel 2028 ci saranno 70.000 medici a spasso. Difficoltà per i professionisti, che si traducono poi in problemi per i cittadini, con la piaga delle liste d'attesa lontana dall'essere risolta. A me capita di avere in una seduta 15 risonanze magnetiche. Sono esami lunghi, c'è poca disponibilità perché le macchine costano ancora molto e quindi bisognerebbe che l'accesso fosse appropriato. In realtà spesso ci arrivano richieste senza un quesito diagnostico. Molti dei miei pazienti attendono mesi per poter fare delle prestazioni e poi vanno a quella prestazione carichi di aspettative e poi sono insoddisfatti. Cioè tornano da me e sono frustratissimi. Ma non perché il professionista non l'ha... perché non ha avuto il tempo neanche di guardarlo in faccia. E quindi questa cosa qua non può più andare avanti. Questa cosa qua aumenterà ancora le nostre liste d'attesa. Perché le persone per fidarsi di noi hanno necessità di entrare in un rapporto con noi. E c'è sempre il piano B per il cittadino che è il pronto soccorso. Perché poi alla fine per quale motivo i pronti soccorsi sono così intasati? Perché il cittadino che non trova quelle che lui ritiene le risposte necessarie al suo bisogno di salute e non le trova da un'altra parte le va a cercare in pronto soccorso. Occorre lavorare ancora una volta sulla proprietà. Cioè io devo riuscire a veicolare al pronto soccorso chi veramente ha necessità di pronto soccorso. Restiamo in tema perché questa sera tutta salute. Si parla di acne con il professor Leonardo Celleno, dermatologo al Policlinico Universitario Gemelli di Roma e presidente Aideco, Associazione Italiana Dermatologie e Cosmetologia. Vediamo ora uno stralcio della puntata. Oggi l'acne è diventato una manifestazione comune soprattutto nelle donne giovani e adulte ma anche negli uomini. Maschi e femmine sono quasi colpiti in ugual misura e le forme di acne che stiamo vedendo sono forme di acne diverse. La prima che abbiamo visto si vedevano bene i punti neri, eccoli, alla sinistra dell'immagine. Man mano che si evolvono, formano regioni più gravi, formano delle papule, questi riconfiamenti piccoli, rossastri, duri e dolenti e vanno avanti, si gonfiano ancora, formano delle pustole. E' vero che non li dobbiamo schiacciare? Assolutamente no. Ecco, questa è proprio una papula di riconfiamento rossastro, con al centro una pustolina. E' piena di pus, il pus è un insieme di cellule dei globuli bianchi che sono arrivati lì, è sterile, ma quando io vado lì lo schiaccio è vero che ho soddisfazione, perché c'è questa rottura. Poi però ti accorgi che hai fatto peggio di prima. E quello che succede è che non vedi quello che combini dentro la pelle. Antibatterico, la stessa cosa, professore, possiamo dire del dentifricio? Quanti dentifrici ci siamo messi sulla faccia in adolescenza? Io alzo la mano perché l'ho fatto. Sto dentifricio serve? Sì, è un dentifricio classico. Sì certo, il dentifricio intanto è ricco in tensioattivi. Il tensioattivo scompagina il comedone e fa passare un po' il brufolo. Disinfetta pure un po', ma abbiamo tanti prodotti più adatti. Cambiamo ora argomento. Ad un mese dall'inizio degli eventi la Perla Verde svela i protagonisti di Riccione Christmas Sì. Si punta sulla musica e su allestimenti in tema acquatico. Le luminarie si accendono il 24 novembre, poi per due mesi a Riccione sarà Natale. Ad un mese dall'inizio degli eventi la Perla Verde svela i dettagli di Riccione Christmas Sì. Protagonista indiscussa la musica che animerà l'arena H2O su Piazzale Ceccarini ma anche il Palace e le chiese. Tra gli ospiti più attesi il 29 dicembre per il concerto degli auguri Enrico Ruggeri. Si partirà a suon di gospel con il concerto dei Florida Inspiration Singer il 24 dicembre. Il 26 la notte dei sogni con il San Martino d'Ore e la musica dell'avioninista Laura Marzadori. La notte di Capodanno l'H2O Arena si trasformerà in una pista da ballo con discoteca romantica affidata ai DJ che hanno suonato su una delle più famose console degli anni 90. Mi occuperò del 24 novembre dove ci sarà questa inaugurazione con questi quattro danzatori professionisti che interpreteranno i quattro elementi. Sarà una cosa molto originale, molto di impatto ed emozionale. E poi la notte di Capodanno dove lasceremo andare tutti i pensieri e avremo un giovanissimo corpo di ballo che si cimenterà in questa mezzanotte di fuoco. Abbiamo deciso di dare una continuità romantica includendo un partnership importante che è l'Aqua Fan che è stato sicuramente riferimento degli anni 90 a Riccione. I produttori, i DJ, gli artisti si concentravano e arrivavano all'Aqua Fan per portare i propri successi così come è stato anche per noi che abbiamo dato il via ai nostri brani che abbiamo poi lanciato sul mercato. Il nuovo anno si apre con il tuffo di Capodanno e la Milonga. Riccione punta anche sugli allestimenti. Il taglio del nastro della pista di pattinaggio di 1600 metri quadri che si snoderà da Piazzale Roma sul lungomare in direzione Porto sarà il 23 novembre. L'8 dicembre si accende il grande albero sul porto. Sulla piazzetta del Faro sorgerà l'oasi di Babbo Natale che arriverà su una slitta che surfa sulle onde. Il presepe sarà allestito a bordo della Saviolina. Tornano il tradizionale appuntamento con la rassegna corale dai cori al cuore l'MC Hip Hop Contest a chiudere le festività uno spettacolo di urban dance. Tanti gli appuntamenti in biblioteche al museo per i più piccoli. Per gli appassionati di arte arriva a Villa Mussolini la mostra fotografica dedicata ad André Certezze e Jacques-Henri Lartigue. Ora invece lo sport con il calcio. Il Rimini finora al meglio di sé lo ha dato lontano dal Neri in trasferta. Infatti i biancorossi sono ancora imbattuti e fuori casa hanno conquistato nove dei loro 13 punti in classifica. Il test di domani sera a calcio d'inizio alle ore 20 e 30 è un banco di prova significativo perché Colombi e compagni saranno di scena al liberati di Terni. Tana della Ternana seconda forza del campionato con 21 punti. Mister Busce ritrova ad avversario Abate suo compagno di squadra all'Empoli. Sentiamo le parole del tecnico dei biancorossi alla vigilia. In effetti è una partita tosta perché comunque affrontiamo una di quelle squadre candidate a vincere il campionato in maniera diretta senza passare per i playoff. Quindi sappiamo il blasone, sappiamo la forza di questa squadra. Quindi siamo consapevoli che in trasferta fino ad ora abbiamo fatto comunque cose importanti e avremo da farlo anche domani, nonostante magari qualche difficoltà, ma fa parte del gioco del calcio. Quindi la consapevolezza nostra è quella di affrontare comunque tutte le partite per portare a casa la posta in palio piena e lo facciamo anche quando ci siamo in casa. Purtroppo in casa a volte anche per situazioni, episodi particolari, negativi e a sfavore è andata magari in maniera diversa. Abbiamo recuperato Chiarella che questa settimana ha fatto tutto il lavoro con noi, con il gruppo quindi è convocato per domani. Stessa cosa De Vitis, si è aggregato anche lui, quindi due recuperi importanti. Gorelli si è fermato ieri per precauzione, lo stiamo valutando e anche oggi abbiamo tenuto opportuno di tenerlo un po' così, un po' fuori. Decidiamo un po' nelle prossime ore, ecco. E poi i soliti Cioffi, Malagrida che stanno comunque recuperando, stanno facendo comunque già lavoro in campo, quindi credo che nel giro 15-20 giorni entrambi possano riaggregarsi in gruppo. Cernicoi, sì, anche Cernicoi, anche lui sta bene, sta migliorando. Credo che la settimana prossima debba fare un controllo, ma al massimo una settimana dovrebbe essere in gruppo a pieno ritmo, a pieno regime. In onda questa sera alle 21.10 su Icaro TV la terza puntata dei Cammini di Santiago. A guidarci nel viaggio, come sempre, Davide De Michelis, che ci porterà anche in questo luogo particolarmente suggestivo e simbolico del cammino, la collina dove si trova la famosa Cruz de Hierro. Scopriamo di cosa si tratta in questa anticipazione. La leggenda narra che tutti i pellegrini che andavano a Santiago di Compostela fossero invitati un tempo a portare con sé una pietra per contribuire alla costruzione della cattedrale. Ancora oggi molti pellegrini portano con sé un sasso dal punto di partenza, dal luogo dove iniziano il cammino. E lo portano fino qui. Qui sono a due terzi del cammino francese. Mancano ancora circa 250 chilometri per arrivare a Santiago. Lo lasciano qui nel punto più alto di questo cammino, a 1500 metri di altezza. Ma questa pietra oggi ha tutto un altro significato. Oggi questa pietra rappresenta le difficoltà, i problemi, i peccati, le fatiche di ogni pellegrino che l'ha portata fino qui facendo giorni, settimane di cammino. Ma il percorso di questa pietra si ferma qui, ai piedi della Cruz de Hierro, la croce di ferro. E poi il cammino prosegue, più leggero. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi l'augurio di una buona serata. Grazie per essere stati con noi.